buongiorno ragazze e bentornate sul mio canale youtube oggi un video anteprima quindi un video preview sul fondotinta professionale e novità 2015 del marchio egipcia milano make up eccolo qui questo fondotinta è stato presentato nella ultima edizione del cosmo prof bologna e 2015 e dunque oggi voglio presentarlo chiaramente come sempre prima di iniziare questo video anteprima vi prego sempre di controllare qui sotto dove indica il mio dito il box informazioni l'infobox dove troverete tutte le informazioni relativa ai miei social se in particolare il link al blog che come sapete il mio canale principale e ovviamente poi la pagina facebook e a tutti i miei social socials quindi instagram twitter pinterest e credo di averli detti tutti ovviamente anche la mia mail detto ciò ragazze iniziamo voglio dirvi perché mi sembra doveroso due parole prima su chi sia egipcia milano make up e quale sia la sua storia egipcia milano make up è la linea di trucco professionale di bcm cosmetics bcm cosmetics appartiene insieme a bcm scuola al gruppo vastissimo bcm per molti di voi comunque sicuramente bcm già nota come scuola è un nome molto di prestigio opera nel settore dal 1967 ed è non solo una scuola scuola di trucco professionale ma anche una scuola di estetica e massaggi considerate che egipcia milano make up nasce come linea professionale e soprattutto per la moda lo spettacolo la cinematografia ma è anche adatta a un pubblico meno esperto con ottimi risultati ovviamente e veniamo ora quindi al naked skin questo fondotinta novità 2015 dei professional fluid foundation dell'egipcia milano make up naked skin vuol dire pelle nuda e questo proprio ad indicare in assoluta diciamo aderenza a quella che è la tendenza del mercato attuale ad indicare che il finish di questo fondotinta è molto naturale e sottile ha una coprenza modulabile e dunque in grado di regalare al nostro incarnato una immediata uniformità quindi andando a coprire quei cambi di colore le macchioline magari anche solari che abbiamo e semplicemente donando un assoluto effetto naturale viene in otto colorazioni dalla 1 quella più chiara andando avanti fino alla ottava che è la più scura ma come è ovvio combinando questi otto colore di base si possono andare a creare infinite combinazioni in modo da coprire tutte le casistiche che ovviamente tutte noi rappresentiamo andiamo ora a vedere quali sono le caratteristiche che l'azienda pubblicizza per questo fondotinta innanzitutto ci parla di una formulazione innovativa adatta a tutti i tipi di pelle che va a creare una sorta di effetto barriera molto sottile e molto traspirante che va a proteggere la nostra pelle anche dagli agenti inquinanti la texture viene diciamo pubblicizzata come una texture molto morbida molto setosa e che dona elasticità alla nostra pelle questo fondotinta infatti contiene anche vitamine e lipidi pregiati e questi sono appunto importantissimi per la salute della nostra pelle ovviamente ragazzi io poi farò sul mio blog e sul mio youtube una review completa e vi dirò se queste caratteristiche sono effettivamente mantenute come vedete ragazzi dalle foto che vi faccio passare in questo momento sullo schermo l'azienda mi ha inviato 4 colorazioni delle 8 disponibili mi ha inviato la 1 che è la più chiara, la 3, la 5 e la 7 sostanzialmente è come se avesse adottato questa politica una colorazione sì, una no infatti mi ha inviato la 1, non la 2, sì la 3, non la 4, sì la 5, non la 6, sì la 7, non la 8 questa mi sembra una buona politica ossia ha alternato all'interno di quella che è la vasta gamma in modo che io potessi come dire anche giocare combinando questi colori che è poi quello che io vi invito a fare quando acquistate fondotinta giocare in modo da trovare la combinazione che più si adatta a voi o se siete truccatici professionali a quella della modella che vi si presenta davanti non è necessario infatti comprare sempre tutti i colori ma sì una buona selezione di essi ed eccoci qui ragazze con gli swatch di fondotinta allora come vedete io ho innanzitutto riportato qui in basso i numeri di fondotinta che ho swatchato e che mi sono stati inviati quindi il numero 1, il numero 3, il numero 5 ed il numero 7 vi avvicino un pochino il braccio allora come vedete ho per ogni colore versato il fondotinta in quantità abbastanza abbondante e qui accanto l'ho sfumato quindi vedete l'1 sfumato appare in questo modo il numero 3 versato in maniera abbondante è così beh sfumato è questo lo stesso vale per il 5 qui l'ho versato in maniera abbondante qui l'ho sfumato ed il 7 che come vedete è molto scuro qui l'ho versato in maniera abbondante e qui l'ho sfumato andando quindi ancora più nel dettaglio nei colori chiari come potete osservare il numero 1 ha un sottotono leggermente più aranciato vedete mentre il numero 3 ha un sottotono sicuramente più neutro combinando quindi questi due colori che appartengono alla fascia dei colori chiari sicuramente si potranno ottenere tutta una serie infinita di varianti interessanti ovviamente lo stesso dicasi per chi ha colori di pelle ancora più profondi più scuri combinando il 5 che è molto più aranciato con il 7 che lo è meno vedete è più freddo potrete ottenere un'infinita variabilità di colore ovviamente non dimenticate che la linea colori va dal numero 1 al numero 8 per cui avrete tutta una serie di colori in più con cui poter eventualmente giocare e fare combinazioni andiamo ora ragazza alle caratteristiche di dettaglio di questo fondotinta la boccettina contiene 35 ml di prodotto ed ha una durata dalla data di apertura di 18 mesi non è dotata di pompetta ma è semplicemente a pressione ha un SPF 15 quindi un fattore di protezione che è ottimo anche per chi lo indossa in città nell'inci vi ho evidenziato in rosso due sostanze l'estratto di cassialata che contribuisce a limitare i danni indotti dal photoaging quindi dai danni provocati alla pelle e dalla luce e vi ho evidenziato lo squalano che è una frazione insaponificabile dell'olio d'oliva ha proprietà anti invecchiamento ed ha proprietà nutrienti in genere la pelle lo tollera molto bene, non unge e si assorbe facilmente infine ragazzi andiamo alla tecnologia con cui questo fondotinta è stato pensato questo fondotinta è dotato di cosiddetti agenti soft focus ossia di agenti che attenuano le ombre del viso inoltre è stato realizzato con pigmenti HPP si chiamano ossia highlighter performing pigments sono pigmenti che aderiscono molto bene alla pelle e danno una buona luminosità alla pelle cioè non la ingrigiscono, non la appesantiscono sono dei pigmenti lavorati molto finemente e l'azienda ci dice che garantiscono una distribuzione del colore molto omogenea e molto sottile sopra la nostra pelle senza creare delle macchie antiestetiche o degli spessimenti che ovviamente poi danno alla pelle un effetto assolutamente non naturale queste quindi sono ragazze le caratteristiche del naked spin spero continuerete a seguirmi sul mio canale, sul mio blog mi raccomando sottoscrivete e lasciate commenti se vi va o mi piace grazie